Per te è un pochino inedito, almeno per quanto avevamo visto qui a Pisa, ma direi che è andata decisamente bene. Si è andata bene, un ruolo inedito come hai detto te, perché non avevo mai giocato da seconda punta. Ringrazio il mister per la fiducia e siamo stati bravi a lottare fino alla fine e a prenderci questa vittoria. Dove ha lavorato il mister in particolar modo in questa settimana per farvi presentare quest'oggi in queste condizioni qua? Diciamo che noi vecchi sapevamo come lavorava, poi i nuovi sono stati bravi ad adattarsi subito, ha approvato subito questo modulo che oggi ci ha dato i frutti sperati. Cambia qualcosina ora per questo finale di campionato? Noi pensiamo a salvarci come abbiamo detto fino ad ora, poi se da qui fino a 12 maggio verranno cose migliori bene, altrimenti ci salutiamo e ringraziamo tutti come sempre.